L'Aquila è uscito il meglio e il peggio del paese, anche per quanto riguarda l'informazione. Abbiamo vissuto in questa bella città perché tutto sommato è una bella città, ma chi ci viene dietro, i nostri giovani, avranno sempre questa etichetta di terremotati. Io non mi sento terremotato, mi sento trattato con terremotato, quando io vorrei poter fare. Se ci avessero fatto continuare in quel modo, noi la città non dico che l'avremmo ricostruita, ma staremmo a buon punto.